Allora, ciao, buongiorno a tutti, spero abbiate passato una buona Pasqua, in casa, naturalmente. Io mi sono fatto portare, ho preso il pranzo al ristorante qui sotto casa, Santo Palato, che cito e ringrazio, perché il pranzo era buonissimo. 33esima edizione, puntata di Amuchina Monamour, oggi nella versione speciale di Pasquetta, alle 12. 13, ricordo che i contributi sono su YouTube e fra poco saranno anche su IGTV. Inizio velocemente con la rassegna stampa prima di presentarvi l'ospite di oggi e di farla venire in diretta. Allora, sulla lettura di ieri, in realtà esce la domenica ma si trova per tutta la settimana, c'è un bel articolo di danza, coreografia a distanza, la danza si reinventa. L'articolo è di Valeria Crippa, cito solo il titolo, il sottotitolo. Per la prima volta un gruppo di artisti, grazie a un'idea del direttore di Ater Balletto di Reggio Emilia, ha realizzato un video filmando prestazioni casalinghe. Il regista, la performance, un One Meter Closer, racconta il mondo come adesso. Devo dire alla giornalista che non è la prima volta, perché qualche settimana fa ha debuttato il video della compagnia Egribianco Danza, che andava in quella direzione. I danzatori danzavano nel loro caso e c'è stato un montaggio video. Leggetevi l'intervista al coreografo Diego Tortelli, potete vedere online il trailer, il film completo sarà su Rai 5 il 29 aprile in occasione della giornata internazionale della danza. Velocemente, c'è anche un articolo di teatro, un tartuffo al cuore, Molière ci parla, un applauso al titolista, perché tartuffo non è male. Il sito dell'Odeon di Parigi mette online tre regie di Molière del suo direttore Stéphane Braunschweig, spero di aver detto la pronuncia giusta. Cordelli ne fa un elogio, come un regista che io personalmente non ho visto alcun lavoro, che non è venuto molto spesso in Italia. C'è anche un trafiletto che leggo di Laura Zangarini, aiutate il teatro oppure scompare, perché mi sembra importante. Fino a quando l'emergenza terrà chiusi i teatri, temo che sia l'unica attività culturale che rischia la sospensione a tempo indeterminato. Riflette Ferdinando Bruni, fondatore con Ello e De Capetane del Teatro dell'Elfo di Milano. L'apertura a settembre non è un'opzione. Anche con capienza ridotta di un terzo, le cifre non permetterebbero di coprire i costi, perché non siamo un cinema che può ripetere una proiezione. Quando si parla di riapertura, sottolinea ancora Bruni, non ci si ricorda di attori, cantanti, orchestrali, che si devono toccare perché il teatro è fisico. Ed è difficile pensarlo in altri termini. Di positivo c'è che il Ministero ha stanziato più di 30 milioni per lo spettacolo dal vivo e molti settori hanno aderito alla campagna Io rinuncio al rimborso, declinando lo storno dei biglietti dopo la chiusura decisa il 23 febbraio. Io condivido le parole di Bruni, penso che la chiusura a tempo indeterminato sia un concetto un po' troppo pessimista, ma mi faceva piacere citare quest'articolo di Laura Zangarini. Veniamo a noi, l'ospite di oggi è Eleonora Albrecht, presento velocemente, attrice di varie serie televisive e anche per registi come Francesca Comencini e Eugenio Cappuccio, come regista ha diretto due cortometraggi e anche imprenditrice di una linea di accessori con fetta di cui ci parlerà. E ha ideato un format su Instagram, che è un po' il motivo per cui è qui, molto interessante. Adesso la faccio entrare, eccola qua, la connessione ci aiuti. Ciao, ciao Eleonora, mi senti bene? Sì, benissimo, tu? Sì, bene, come stai? Bene, grazie, tu come stai? Ha passato una buona Pasqua, benissimo, siamo in casa, va bene. No, per me guarda, un giorno come un altro, nessuna differenza, l'unica cosa è che avendo una bambina abbiamo organizzato qualche gioco un po' diverso, caccia al tesoro, cose così, ma altrimenti ovviamente... Certo, io mi sono fatto portare il pranzo, ho un ristorante sotto casa, almeno abbiamo abitato di cucinare. Senti, cara, allora, da dove cominciamo? Ah, prima dico a tutti che se volete invitare a partecipare potete premere l'aeroplanino qui sotto, per le domande c'è il tasto col punto interrogativo. Eccomi, senti Eleonora, che vedi dalla finestra? C'è qualcosa del tuo quartiere? Perché nelle ultime puntate mi raccontano un po' il quartiere, chi vede qualcosa, chi sente qualcosa, chi non sente niente. Tu c'è qualcosa che vedi o senti? Allora, guarda, io dalla mia finestra vedo il Vaticano, la città del Vaticano, e riesco a vedere anche addirittura abbastanza dentro, perché siamo in alto. Ma c'è movimento, no? Beh, oddio, addirittura quello non è che riesco tanto a vederlo, l'unico movimento che sento è l'elicottero del Papa, quindi o il Papa o chi per lui fa spesso avanti e indietro in questi giorni. Qualcuno va in giro, forse il Papa non ce lo racconta. L'ultima uscita ufficiale mi sa che è quando è andata a via del corso, però è già qualche settimana fa. Però boh, chissà, magari ha delle uscite. Non lo so, sinceramente... Beh, però ecco, questa è l'unica cosa. Poi ti dico, vedo molti meno uccelli rispetto a un po' di tempo fa, non so perché, però altrimenti per fortuna ho una vista abbastanza tranquilla. Il mio problema è che stavo per iniziare un trasloco lavori e ovviamente è tutto il stand by. Lo sai, anch'io, anch'io devo cambiare casa, stavo facendo... insomma, ero nelle fasi di trattativa, a un certo punto è saltato tutto, ora riprenderemo, chissà. Chissà. Va bene. Senti, cara, veniamo al dunque, perché io e te probabilmente siamo gli unici che parliamo di spettacolo dal vivo, diciamo, su Instagram. A parte, come dire, i grandi enti, cito il Teatro La Fenice, che fa delle dirette, tra l'altro anche per beneficenza, quindi seguitelo, il Teatro La Fenice di Venezia. Cito Triennale, di Milano, che chiama vari personaggi del mondo della cultura, tra cui anche persone di teatro e di danza, ma non solo. Vabbè, questo Amukina Monamur è presente qui, quindi chi ci ascolta è tu, un minimo lo conoscete. Mi faceva piacere parlare con te del tuo format, chiamiamolo così, i personaggi della danza. E chiederti intanto come nasce, se ce lo puoi un po' raccontare, se è legato a questo momento di quarantena, se è un'idea che avevi da tanto tempo. Raccontaci. Guarda, allora, secondo me innanzitutto Instagram in questo momento, come anche Facebook, però Instagram in questo momento è un posto, è un bel luogo dove comunicare e far conoscere alle persone anche altro. Perché purtroppo Instagram ti ripropone sempre le cose che sa che ti piacciono tramite gli algoritmi. Allora, la mia idea principale è stata voglio far conoscere ai miei followers, soprattutto, altri aspetti sia di me, perché magari la maggior parte delle persone che mi seguo in questi anni mi ha conosciuto tramite i miei lavori e io non faccio parte del mondo della danza, sia far conoscere qualcosa proprio di artistico in più. Perché la danza? Perché la danza fa parte della mia famiglia. Io sono cresciuta in una famiglia di ballerini e mia mamma era prima ballerina, teatro dell'opera, mio padre anche, il compagno di mia madre è un famoso coreografo, ho tanti amici ballerini. Ed è un mondo che mi è sempre piaciuto, ovviamente, ho visto migliaia di spettacoli, credo, perché ci sono proprio nata da quando ero minuscola, insomma, stavo con mia mamma dietro le quinte. Però, non avendo mai voluto fare la ballerina, è qualcosa di cui io non ho mai parlato a chi mi segue, che mi segue per altre ragioni. Avendo questa fortuna, in un certo senso, di poter accedere a dei personaggi perché mi conoscono inizialmente, per ora le persone che ho intervistato sono persone, ma no, devo dire no, un coreografo in realtà non lo conoscevo. Però, inizialmente, ho iniziato con delle persone che fanno parte del mio entourage. Di casa, quasi. Sì, ecco, sì, amicizie o familiari. E quindi, secondo me, è un'idea interessante. A qualcuno interesserà scoprire la danza in un altro modo. A me è interessato molto, io ti seguo sempre. Grazie, ma scoprire soprattutto l'aspetto artistico delle persone, cioè degli artisti, perché a me poi piace quello, cioè scoprire il percorso, per dirti, magari quando si leggono le biografie, no? È interessante sapere come iniziano anche scrittori, insomma, non per forza persone del settacolo. Quindi, avendo Instagram un po' eliminato certe barriere, perché ormai tu puoi seguire anche dei divi, diciamo, su Instagram, che postano foto della quotidianità, cose veramente impensabili prima. Cioè, a momenti Instagram ha tolto qualsiasi mistero, se vuoi eliminare il mistero da vivo, in un certo senso. Ecco, quindi è per questo, soprattutto. Bene, no, il mondo della danza è fatto molto spesso di immagini bellissime, però poi non sempre c'è un rapporto con i social, con Instagram. Quindi questo è anche bello che lo è fai, perché comunque sono personaggi magari famosissimi, però non molto conosciuti nel pubblico dei social, di Instagram, perché adesso parliamo di Instagram. Ti va di raccontarmi un po' magari uno di questi incontri che hai avuto, di cosa avete parlato? Qui c'è, vedo Stefania Minardo, Vittorio Biaggi, Giuseppe Picone. Se ce n'hai uno che in qualche modo, secondo te, è venuto particolarmente bene come incontro, e ti va di così evocarlo per un minuto? Ma guarda, secondo me, beh, l'incontro, diciamo, con Vittorio Biaggi sicuramente è interessante, perché lui ha avuto una vita molto interessante, e quando parla senti proprio una persona che ti racconta sia il vissuto, sia il percorso creativo di un artista che si è messo a nudo, ha messo a nudo se stesso per la sua arte. Quindi, secondo me, è interessante in generale ascoltare una persona che racconta il suo processo creativo, e racconta però anche degli incontri interessanti che ha fatto nella sua vita, cioè qualcuno che è riuscito anche a imporsi, vogliamo dire così, a farti conoscere agli altri, perché ovviamente, sai, in generale, poi i coreografi, secondo me, sono ancora, non lo so, sono visti stranamente, cioè i ballerini sono come un po' gli attori, cioè sono degli interpreti, si mettono, fanno lo show, i coreografi invece sono un po' dietro sempre le quinte, quindi il coreografo, tanta gente, secondo me, non sa neanche che cos'è un coreografo, è una parola, sì, non parliamo delle persone che conoscono il teatro, le arti, ma io dico proprio in generale, e dire coreografo, la gente dice scenografo, quante volte ho sentito scenografo? Scenografo, il sceneggiatore. No, ma è una parola che le persone non conoscono, quindi parlo sempre un po' generalizzando, ovviamente. Quindi, secondo me, l'incontro con lui è stato particolarmente interessante, perché è interessante la persona, quello che ha fatto, e insomma, diciamo... Bene, senti, no, ci seguono dalla Francia, ci scrivono che non capiscono, e purtroppo questo format è in italiano, magari poi un giorno ne facciamo uno francese. Un francese. Senti, Eleonora, che ti volevo chiedere? Ah, ci dici se hai già il prossimo appuntamento, se ci stai lavorando, come fare per seguirti, e quanto va a amare che è ancora? Guarda, sì, qualche altro appuntamento ce l'ho. Con Eleonora abbagnato, è da due settimane che dobbiamo farlo, ma purtroppo lei ha una famiglia molto numerosa, non riesce già a fare le sue dirette ogni pomeriggio, dove fa la sbarra in diretta con tutti i ballerini, quindi è un po' un problema ancora organizzarlo. Altrimenti sì, sto organizzando con altri sia ballerini, coreografi, non so se già da domani, ma sicuramente questa settimana. Ok. Su Instagram poi arriva l'annuncio sulla storia del prossimo appuntamento, tra l'altro tutte le puntate sono su IGTV, io ho avuto grosse difficoltà a caricarle su IGTV per motivi non so tecnici, perché secondo me Instagram collassa un po', ma tu le carichi da computer, tu passi dal computer poi. Adesso vi racconto che cosa faccio, perché è un'impresa, non sembra. Allora, ecco, noi facciamo una diretta, no? Perché magari le persone non si rendono conto, io a volte mi scrivono, ma quando carichi, quando carichi, ho anche altro da fare, quindi è ovvio che è anche più difficile, praticamente tu fai la diretta, poi io la metto sulla story, poi uso un'applicazione che fa la registrazione dello schermo, che ogni tanto va, ogni tanto si blocca, quindi già quello tra le 3-4 ore, dopodiché la metto su Drive, poi da Drive sul computer la scarico, e poi vado su Instagram, sul browser, su Chrome, e faccio l'upload. L'upload, che però anche l'upload ogni tanto si incastra, mi sembra, non è molto. Infatti guarda, ci metto almeno 24 ore. Infatti io per ora adesso le sto mettendo su YouTube, però mi rendo conto che come è formato, essendo verticale, su IGTV è troppo più bellino, cioè su YouTube è un po' d'archivio così. Senti, cara, volevo parlare anche di un altro argomento, perché ho visto che tu insieme al tuo compagno Flavio Parenti, avete anche un brand di accessori. Di moda. Di moda, sì, di moda. Confetta si chiama. Volevo sapere se in questo mese, diciamo, così surreale, l'attività, che chiaramente mi sembra di capire che sia prevalentemente online, parlo ovviamente dell'acquisto, se c'è stato qualche cambiamento, se senti un po' di flessione, perché chiaramente è un periodo anche economicamente per molti non... Guarda, sicuramente il periodo è diverso, i bisogni dei consumatori sono diversi, perché comunque sia alla fine sono persone che comprano quello che gli serve. E non tutti hanno anche la stessa voglia di spendere i soldi nello stesso modo di prima, perché sai, ti dicono stai un mese a casa, poi adesso stai un altro mese a casa, e poi ovviamente speriamo di uscire, però sicuramente quello che ha cambiato è che, per dirti, noi che eravamo concentrati molto sulle borse, le borse in questo momento, borse di un certo certo non ti servono, quindi ho avvirato molto anche sull'abbigliamento, e quello però dipende, insomma ci sono delle cose che funzionano di più, devo dire quello che funziona in questo momento, e mi fa molto piacere, sono per dirti gli orecchini, cose così, che significa che le donne hanno ancora voglia di mettersi un piccolo bijou addosso, e l'abbigliamento anche pensando magari a quando usciranno, ecco perché comunque usciremo, non è che siamo chiusi in casa due anni, spero. Allora, mi scrivono, wow, la vorremmo vedere, su me era riferita all'onora bagnata, corteggiala, guarda, anche io la vorrei vedere. Corteggiala. Poi ci chiedono, qual è l'app che usi per registrare lo schermo, ti ricordi il nome? Allora, io ho un Google Pixel, quindi ho un Android, uso AZ Recording, che penso... AZ Recording, ok. Sì. Ok. Facciamo in parla tanti altri. Infatti, Stefania Minardo ti saluta. Grazie, anche io. Quindi, diciamo, su Instagram Confetta Official è l'account del brand. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa su questo, se no cambiamo argomento. Ma, guarda, il sito poi è confetta.com, appunto è da donna, abbigliamento, accessori, anche cose un po' più comode, tipo leggings, cose così, insomma. Però, in questo momento, l'unico modo per fare shopping è fare shopping online. soprattutto io ho avuto magari ogni tanto un po' di critiche così, ah, ma tanto adesso i fattorini si lamentano perché tutti fanno shopping compulsivo. Ma io penso anche tanto a Amazon, per dirti, o i corrieri lo dicono sempre, se prima noi diamo la priorità ai beni di prima necessità. però se uno si vuole comprare una cosa di abbigliamento non si deve neanche sentire in colpa. Cioè, i fattorini fanno, non dipendono dai negozi online, dipendono dai servizi postali e loro avranno il loro modo per sentirsi al sicuro. Io per dire, quando consegno un pacco, ricevo un pacco, non lo vedo proprio, gli dico, lasciamelo giù. Quindi fanno questo. No, no, questo è giusto, anche perché comunque poi, secondo me, poi è stato un altro discorso lunghissimo, ma l'economia, se va avanti un po', non è male anche per il nostro paese. Però ci chiedono com'è nata Confetta. Ah, Cocca mi chiede com'è nata Confetta. Confetta, te lo racconto brevemente perché è una storia un po' lunga, però brevemente, io sempre da ragazzina ho voluto fare la stilista e ho fatto una scuola di stilismo a Parigi, prima di iniziare invece un percorso di recitazione e teatro. Quindi ho fatto, ho studiato e ho sempre voluto avere una mia linea di borse. Però ovviamente iniziare una propria linea è molto complicato. Immagino. Perché il mio compagno, due o tre anni fa, siccome lui aveva già anche altre società, due o tre società, quindi una capacità imprenditoriale che aveva iniziato ad avere, perché lui fa l'attore poi, ho detto, senti, ho capito come si fa, proviamo a fare questa cosa, io mi occupo di tutto l'aspetto manageriale, tutti occupi di tutta la parte creativa. E così abbiamo iniziato e ho realizzato uno dei miei sogni. Bello. Perfetto. Senti, ti andrei verso la chiusura, ti farei però l'ultima domanda, quella più difficile, perché questa rubrichetta adesso parla del dopo, vuole parlare un po' anche del dopo. Chiaramente non abbiamo ricette, insomma è tutto molto. Aspettaci, c'è un'altra domanda, perché qui mi scrivono. Ah no, questo è un mio amico che fa manda emoji. Allora, ti volevo chiedere, secondo te, come potrà ripartire, se c'hai un'idea, uno spunto, il teatro, il cinema, in generale, il mondo dell'arte, anche la danza, dopo il corona? È difficilissimo. Un pensiero, un'idea, qualcosa? Il mio pensiero è che purtroppo, cioè l'evoluzione già c'è stata sotto in questi anni, per quello che riguarda il teatro, ma anche proprio la sala cinematografica, cioè il cinema, la sala, è come un teatro, in un certo senso, è un luogo dove vai per vedere uno spettacolo, che non è dal vivo, ok? Però c'è stato un calo allucinante, delle persone che sono andate al cinema in questi anni. Che dirti? Secondo me, la gente inizialmente avrà tanta voglia di uscire, tanta, tantissima, quindi probabilmente, inizialmente, ci sarà un periodo in cui i luoghi, il teatro, sarà molto frequentato, perché comunque il pubblico avrà proprio voglia di vedere lo spettacolo dal vivo, perché abbiamo bisogno in questo momento di un contatto. la realizzazione degli spettacoli, la realizzazione dei film, quello, sì, secondo me, si racconterà questo periodo, il periodo della quarantena, sarà qualcosa che resterà dentro di noi. Per come, io sono una persona ottimista, voglio pensare che tutto un giorno tornerà come prima e che riusciremo a riabbracciarci tutti quanti, tanti, però, non lo so, sinceramente, non subito, non sarà immediato e comunque sia, è qualcosa che ci ritornerà dentro, cioè, è un shock per tutti. Adesso, secondo me, in questo momento noi non ci rendiamo tanto conto di quello che stiamo proprio vivendo, perché a un certo punto riuscirà, cioè, abbracciare uno sconosciuto, così, uno che ha visto, non lo so, cioè, io non penso che lo rifarò di nuovo così facilmente. Non è vero. Gli spettacoli, prima ho sentito, hai detto una cosa di una rassegna stampa, sì? No, secondo me fare, invece, spettacoli a distanza può avere anche un suo perché, nel senso, gli attori in scena possono tranquillamente, cioè, dipende dalla tematica, ovviamente, ma si possono anche raccontare cose interessanti con una distanza, No, sono d'accordo. Senti, ti cito questa cosa, c'è una piattaforma di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa con una delle ideatrici Gaia Riposati, si chiama Riavvia Italia e sta collezionando buone pratiche, c'è il sito riavviaitalia.it per la ripartenza nei settori culturali, turistico, sociale, eccetera. C'è una proposta per il cinema molto carina che, per esempio, è riallestire i drive-in, cioè, allestire dei parcheggi, delle piazze, comunque vai al cinema, puoi stare con la tua fidanzata, con il tuo amico, eccetera, stai in macchina e ti guardi il film come ai vecchi drive-in che sono un po' obsoleti, ma, come dire, in chiave vintage potrebbero riprendere, come dire... Sì, guarda, secondo me, ecco, questo è un genere di cose però che, cioè, fai una volta non è che lo fai tutti i weekend, credo, cioè, comunque, anche perché il fatto di andare al cinema o a teatro è proprio anche avere no, quell'energia, vedere chi c'è, stare nel luogo, se stai dentro la tua macchina, insomma, sì, lo puoi fare una volta, sinceramente, non lo so, magari si possono essere idee più belle, cioè, mi piacerebbe pensare che quest'estate all'isola Tiberina, dove ogni estate fanno il cinema all'aperto, magari creeranno qualcosa di interessante, cioè, noi le idee le abbiamo, insomma, si andrà avanti, secondo me, si andrà avanti anche bene, la paura magari resterà, però, voglio dire, a un certo punto passa, passerà, durerà per sempre, poi, senti, un'altra cosa, io sono stata in Giappone dieci anni fa, in Giappone, a Tokyo, la gente tranquillamente va in giro con la mascherina, tu hai un raffreddore, ti metti una mascherina, non stringono le mani, cioè, magari cambieremo delle nostre abitudini, ok? Sì, dovremmo cambiare molto, ad esempio, a Roma, io sono toscano, già a Roma, c'è un concetto di bacio e abbracci, molto più ampio rispetto al nord Italia, cioè, con sconosciuti, fino all'altro ieri, ha tutto un bacio e abbracci, ad esempio, già a Milano sta molto meno. Invece ti dico un'altra cosa, in Francia, a Parigi soprattutto, quando tu conosci qualcuno che non hai mai visto, ti presenti a qualcuno, non gli dai la mano, lo baci, cosa per noi, cioè, noi non arriviamo a quel punto da italiani, conoscendo la persona e gli dai la mano, là subito parti col bacio e quando tu fai l'italiano magari e gli dai la mano, ti guardano tutti stra... ora voglio vedere che succederà dopo. Fanno tanti gli schizzi noti a volte, ma voglio vedere che cosa se continuano a darsi questi baci a destra e a sinistra. Infatti, anche Simona sta scrivendo, pensa a Parigi dove ti baciano. Ah, ecco, vedi, infatti, perché per noi italiani comunque va stra... cioè, ma inizialmente dai la mano, poi magari a fine conversazione ti saluti, dai, partono col bacio, dice subito. Va bene, senti, cara, io andrei verso la chiusura, ti ringrazio moltissimo di questi insieme. Ti do un saluto come si fa adesso con il corona, col... Tacchete. Col gomito. No, invece farò un saluto alla giapponese. Spero che poi nessuno si offenda quando mi incontrerà per strada, ma io saluterò così perché se volo... Saluterò il giapponese con i CUA. Va bene, grazie. A presto, ciao Eleonora. A presto, buona Pasquetta. Ciao a tutti. Buona Pasquetta anche a te, ciao. Ciao. Grazie Eleonora, seguitela, mi raccomando, sulla sua pagina Instagram per le prossime puntate dei personaggi della danza. Vi do i prossimi appuntamenti di Ammuchina Monamur al volo. Proseguiamo domani con Linda Eroli, presidente di Assi Tej Italia, l'associazione che racchiude tutte le realtà di teatro ragazzi italiane, quindi sarà un modo per fare il punto della situazione su il teatro ragazzi e come se la sta passando in questo periodo e quali sono le prospettive future. 15 aprile c'è Lorenzo Donati, giornalista, critico teatrale per Altre Velocità, parleremo dei podcast che Altre Velocità sta facendo, quindi torniamo al concetto di radio come abbiamo parlato anche in precedenza. 16 aprile Fabrizio Gavosto, direttore del festival Mirabilia di Fossano Cuneo con lui faremo un punto della situazione sul circo contemporaneo e poi arriveranno altri appuntamenti. Un saluto e ci vediamo domani e domani siamo alle 3, ok? Ciao!